Io sono Alberto Arbuse, rappresentante di consulta del liceo Marolico, frequento la quintà di questo istituto e oggi abbiamo deciso di portare avanti questo Stato di Occupazione che ha avuto il suo avvio giorno 11. Le motivazioni sostanzialmente che rivendichiamo sono due. La prima è la proposta di una legge regionale sul diritto allo studio che al proprio interno abbia delle rivendicazioni storiche del nostro territorio. Ci siamo battuti e abbiamo organizzato conferenze con esperti del settore riguardanti il carolibri, il comodo d'uso, i trasporti pubblici, i finanziamenti pubblici, tematiche che magari qui non vengono affrontate come vorremmo, tra cui l'educazione civica, l'educazione alla legalità. La seconda motivazione che rivendichiamo è la proposta di modifica e di regolamento di alternanza scuola-lavoro, che molto spesso noi studenti abbiamo la sfortuna di subire più come uno sfruttamento che come un'occasione che è invece quello che vorremmo noi. Io sono Tommaso Talia, rappresentante all'Organe di Garanzia del Liceo Classico Francesco Moroligo e frequento la quintà di questo istituto. Noi in questa occupazione abbiamo fatto diverse conferenze inerenti ai punti che abbiamo portato nella piattaforma, che abbiamo presentato sia ai genitori, ai docenti, alla dirigente e soprattutto a tutti i nostri studenti. Io sono Giuseppe Starantino, rappresentante dell'Istituto del Liceo Moroligo. La protesta che portiamo avanti non è una protesta portata avanti da soli, perché tutte le scuole cittadine, gran parte delle scuole cittadine si stanno muovendo, non nel nostro stesso modo, non stanno infatti attuando un'occupazione. Alcune scuole sì, altre scuole stanno attuando una gestione, in ogni caso nelle scuole si parla di questa problematica e come potete appunto vedere la problematica è comune e soprattutto cercheremo, l'obiettivo è proprio quello di portare avanti una proposta che sia comune. Un altro aspetto che vogliamo sottolineare e che ci teniamo soprattutto è che noi non stiamo interrompendo il servizio pubblico in quanto la segreteria rispetta i suoi orari, il personale ATA lavora normalmente, se c'è la maggioranza degli alunni che vuole fare lezione, può fare lezione regolarmente, in più un altro aspetto che teniamo, a cui teniamo moltissimo, è che noi non abbiamo attuato questa forma di protesta che è iniziata giorno 11, lunedì, solo per perdere scuola, assolutamente non è così, non è così perché noi a questa motivazione ci teniamo veramente e non l'abbiamo fatto per anticipare le vacanze di Natale come magari è stato pensato da docenti, è stato pensato da molti, dai genitori eccetera eccetera. Alla popolazione messinese noi diciamo che ci siamo stancati della Sicilia intesa come ruota di scorta, della Sicilia intesa come regione più arretrata rispetto alle altre, siamo stanchi di tutti i dati che vediamo quotidianamente espressi da giornali, organi di stampa, organi di informazione vari e noi con questa occupazione lo stiamo esprimendo. Ci teniamo a sottolineare che in questa nostra forma di protesta, nel nostro istituto sono venute tante personalità, non solo ad accogliere la nostra forma di protesta ma anche ad esprimerci quelli che sono i loro pareri sul fatto che abbiamo pur sempre 18 anni, è normale, è la fomentazione dell'età, è il voler cambiare il mondo, il pensare alle grandi battaglie, il voler sognare, il voler credere che questa regione, quest'Italia, questo mondo in generale un giorno potrà essere migliore di come adesso, poi magari è normale, non ci riusciremo ma è a 18 anni che queste cose si possono ancora credere e sognare. Oggi da noi è venuto il nostro sindaco Renato Accorinti, nei giorni precedenti sono venuti altre personalità, altri organi di stampa, sarebbe dovuto venire il commissario della città metropolitana, sarebbe dovuto venire il presidente dell'Ast, professori dell'Università di Messina, insomma queste persone non sono pazze, non sono criminali perché entro in un liceo occupato, sono persone che ci hanno capito e che si sono resi conto che questa battaglia o si fa ora o non si fa più.